come on salve a tutti ragazzi io mi presento, sono Chem del canale Chem Chemist, The Chemistry of the Poker e questo è il primo vlog del canale e vorrei vorrei presentarvi che cosa andremo a trattare sul canale naturalmente andremo a trattare di poker non mi sembra abbastanza scontata come cosa vorrei portarvi innanzitutto delle serie io gioco su due piattaforme che sono Pokestar dove qui potete vedere la schermata principale in questa piattaforma mi chiamo Chem88 perché Chem Chemist era già occupato all'epoca e su su Pokes9 che questa è la schermata principale e in questo caso era libero il nickname Chem Chemist e quindi vorrei portarvi queste due serie che cosa andremo a trattare in queste due serie che il nome di queste serie io penso di chiamarle una Road to Pokestar che uscirà una volta a settimana e l'altra Road to Pokes9 che uscirà anch'essa una volta a settimana e vorrei partire da un da un deposito minimo quindi come se fossimo dei novizi il deposito minimo è appunto 10 euro e come potete vedere il mio bankroll su Pokestar è appunto 10 euro ricaricato da poco proprio per l'occorrenza e dopo aver ritirato il mio vecchio bankroll e mentre su Pokestar al momento il saldo è zero perché l'ho ritirato ma ho alcuni problemi con Flash Player per poter ricaricare 10 euro ma penso si risolveranno a breve e in queste serie partendo appunto da questi bankroll minimo che tutti possono investire nel almeno una volta nella vita nel poker andremo a a giocarci i vari cash game sit and go tornei free roll zoom eccetera eccetera in modo da cercare di ampliare e incrementare il nostro bankroll e quindi una strada verso la gloria partendo da un deposito minimo di 10 euro un po' come ricalcare le orme di Moneymaker che nel 2003 partendo da un free roll su Pokestar se non ricordo male è riuscito a qualificarsi per le World Series of Poker che sono i campionati mondiali di poker e vincerlo vincere 2 milioni e mezzo di dollari e chi non sapesse chi è Moneymaker o la sua storia in descrizione lascio il link che potete consultare e informarvi e su Road to Pokestar Road to Pokestar avrò l'ausilio di un programma per la registrazione delle mani chiamato Holden Manager 2 magari molti di voi già lo conoscono chi non lo conosce lascio sempre in descrizione il link del sito ufficiale dove potete andare a a scoprire di che cosa si tratta in maniera più dettagliata in quanto ci aiuta nella registrazione appunto delle mani cosa che non avremo invece su su Pokesnai su Pokesnai invece dovremmo avere ok si è disconnesso comunque dovremmo contare soltanto sul nostro spirito di osservazione e sulle nostre capacità intellettive questo è molto importante perché chi gioca a Poker deve sapere chi ha di fronte in quanto in base al gioco dell'avversario noi dovremmo adattare il nostro gioco in funzione del suo monetizzare il più possibile questo magari verrà spiegato in un altro video successivo oggi vorrei concentrarmi su che cosa andrò a trattare e quindi ci saranno queste due serie perché una con l'utilizzo del manager su Pokestar mentre su Pokesnai no in quanto non vorrei portare due serie completamente identiche quindi vorrei portarvi una serie con l'utilizzo di quel programma per chi magari è già ha già anni e esperienze quindi riesce a comprendere meglio il gioco e chi magari invece è iniziato da poco e quindi non ha ancora la possibilità di avere non ha la possibilità di acquistare o del manager e quindi cercare di affrontare il gioco quindi come un tutorial senza l'utilizzo di quel programma e anche se queste serie sono aperte naturalmente a tutti anche perché non cambia molto quello che si fa con la mente su Pokesnai viene fatto da un programma di registrazione delle mani su Pokestars niente di più ma questo non solo perché la funzionalità principale è la possibilità di portare altre serie sul canale infatti vorrei fare a fine di ogni mese adesso non so se l'ultima settimana del mese o la prima del mese entrante un resoconto mensile sull'andamento di questa strada verso la gloria naturalmente questo si potrà fare solo su Pokestars in quanto è su Pokestars che abbiamo la possibilità di utilizzare Holdel Manager mentre su Pokesnai sarà soltanto il nostro bankroll a parlare e speriamo in maniera positiva oltre a questo visto che c'è la possibilità di registrare ogni mano vorrei portarvi anche una serie sull'analisi delle mani magari le mani principali quelle che hanno sono state ben giocate o quelle che hanno sono state fondamentali nella vincita di un sit and go di un torneo o di un cash game ma anche e soprattutto le mani che abbiamo giocato in malo modo in modo da cercare di migliorarsi ogni volta e quindi capire come si poteva giocare meglio una mano come si poteva affrontare meglio quello spot e così dicendo quindi Holdel Manager oltre a fare il suo lavoro di registrazione delle mani e quindi aiutarmi nel sapere con chi sto giocando mi è anche molto utile ed essenziale per portarvi queste due serie all'interno del canale il nome di questa serie sul poker sull'analisi delle mani penso di chiamarla banalmente poker and analysis molto scientifica la cosa ma questo non sarà quello che o almeno non sarà solo questo quello che andremo a trattare in questo canale andremo a trattare anche tutto quello che ruota intorno al poker quindi ad esempio vorrei portarvi dei live streaming dei massimi tornei quindi l'IPT campionato italiano l'IPT quello europeo e le World Series del poker che è il campionato del mondo quindi commentarle insieme a voi in un live streaming molto simpatico la mia idea è avere un canale molto attivo e interattivo quindi mi piacerebbe magari ogni tanto fare delle sessioni di gioco con voi quindi i primi 5 iscritti che commentano un video da me disegnato potranno partecipare a un sit and go che sarà registrato in live penso in live sul canale e giocare tutti insieme su una piattaforma e questo mi sembra molto simpatico e carino e anche molto istruttivo anche perché su questi tornei privati non si investono soldi veri quindi possono partecipare davvero chiunque non solo non solo ma vorrei anche con all del manager penso che si possano simulare delle mani quindi in caso voi abbiate delle domande o dei dubbi su alcune mani che avete giocato che vorreste giocare o che non sapete come giocare potete inviarmi un messaggio oppure scrivermi nei commenti la mano naturalmente in maniera dettagliata per avere più o meno tutte le informazioni per poter decifrare la mano e quando avrò un numero sufficiente di mani farò dei video in cui li andremo ad analizzare insieme e quindi questo è tutto se non vi siete iscritti iscrivetevi perché si ci aspetta una lunga stagione di poker spero positiva come l'ultima che però non ho registrato quindi spero di ripetermi e dal vostro cam è tutto buona serata olina a tutti